. Anticipazioni Uomini e Donne oggi, l'accusa contro Armando, sei uno stalker . Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e Donne, la seguitissima trasmissione del pomeriggio di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. . Questo pomeriggio, alle ore 14.45 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con il trono over, che si preannuncia ricco di colpi di scena per le dame e per i cavalieri che stanno portando avanti il loro percorso, fiduciosi di riuscire a trovare l'anima gemella. . 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 Nel dettaglio le anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne di oggi 18 dicembre rivelano che in studio ci sarà un durissimo scontro che vedrà come protagonisti Armando e Noel. Quest'ultima, infatti, non gradirà affatto il comportamento del cavaliere, che a quanto pare nell'ultimo periodo si è rivelato un po' troppo presente. La donna andrà su tutte le furie nel momento in cui Armando comincerà un discorso in cui lo vedremo parlare di rispetto, ed ecco allora che a quel punto si scaglierà contro il cavaliere, accusandolo addirittura di essere uno stalker. Il motivo? Noel sostiene di aver ricevuto anche 20 chiamate al giorno da parte di Armando e che nel momento in cui lei non rispondeva al telefono, il cavaliere andava su tutte le furie, diventando così irascibile. Un'accusa decisamente molto pesante è quella di Noel, che in studio ha lasciato un po' tutti senza parole. Le anticipazioni di uomini e donne di oggi rivelano che a quel punto Armando è andato via dallo studio e ha mandato a quel paese la dama. In studio, poi, si parlerà anche di Sossio e Ursula, lei ha ancora dei dubbi e non vuole ricominciare ufficialmente questa storia d'amore, lui invece vuole andare a convivere e rivelerà di aver rescisso il suo contratto con la squadra di calcio per andare a vivere con lei a Taranto. Ultima settimana dell'anno per uomini e donne, il TOC ritornerà a gennaio. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che questa sarà l'ultima settimana di programmazione del 2018 di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi, video, infatti, andrà in pausa a partire dal prossimo lunedì e tornerà nuovamente in onda dal 7 gennaio, con le nuove puntate del Trono Over e del Trono Classico. Con il nuovo anno, arriveranno anche le scelte finali dei tronisti in carica e a quanto pare, stando alle indiscrezioni raccolte su diversi siti web, sembrerebbe che la De Filippi abbia intenzione di proporre le puntate delle scelte in prime time sempre su Canale 5. Grazie a tutti.